benvenuti dal vostro anora sensei sono letteralmente tre settimane buone che mi massacrate di messaggi che mi bombardate di messaggi rapidi su instagram su telegram commenti mail chiedendomi quando porterò delle nuove licenze di kaspersky ebbene visto con tanta richiesta ho deciso di acquistare dei nuovi pacchetti di licenza logicamente in base anche alle vostre richieste da questo momento in poi nelle prossime non dico settimane nella prossima settimana vedremo quante persone hanno bisogno di questo servizio il dopo di che comprerò x pacchetti per tutti i nuovi iscritti che non sanno come funziona potete comunque andarvi a vedere un po dei miei video che ho fatto a riguardo sono anni che li faccio questo è il quarto anno precisamente in pratica compro dei pacchetti molti licenza dopodiché vi mando via mail un invito voi dovete solo semplicemente fare accetta e poi accedere con il vostro profilo kaspersky associato a quella mail logicamente dovete utilizzare i dispositivi in base al numero che avete pagato il costo è di 8 euro per un anno di protezione con kaspersky premium quindi il massimo della protezione che normalmente costa 35 euro a dispositivo comunque a parte questa questa piccola parentesi diciamo che potete farmi tutte le domande che volete e comunque se vi andate a guardare i vecchi video dovrebbe dovrebbe già essere abbastanza tutto quanto chiaro sono super contento che ancora ci siano nuovi partecipanti nuove persone che me lo richiedono oltre a tutti quelli che continuano a rinnovare il fatto che rinnovino di anno in anno significa che è un antivirus che piace che li rende tranquilli e senza preoccupazioni infatti è davvero il numero uno da più di vent'anni kaspersky è il numero uno anche free quindi gratuito se volete testarlo e potete testare anche la versione premium gratuitamente per il primo mese quindi fate le vostre prove utilizzatelo per un mese se vi piace a gennaio febbraio sicuramente arriveranno degli altri pacchetti perché è il momento in cui le persone che l'avevano acquistato l'anno scorso dovranno fare il rinnovo ad ogni modo scrivetemi qua sotto chi lo vuole e quanti dispositivi oltre a farlo qua mandatemi una mail come sempre anaru sensei kiocciolaprotonmail.com mandatemelo lì con la vostra mail dell'account mike kaspersky se non ce l'avete lo potete creare tutto quanto gratis e basta dopodiché vi invierò quello che sarà da fare logicamente vi chiedo anche per un supporto del canale mi raccomando di iscrivervi al mio canale youtube di mettere like che ricordo essere gratuito è però un supporto molto importante quindi mettete assolutamente il mi piace spammate il mio canale al mondo soprattutto oltre a esservi iscritti al mio telegram e instagram che porto notizie offerte roba simpatica potete assolutamente approfittare del mio nuovo canale youtube l'informatica per tutti dedicato a un vero e proprio corso base e successivamente avanzato sia per windows sia per linux quindi se volete imparare le basi dell'informatica e non solo anche per gli smanettoni mi raccomando sotto in descrizione cliccate il link lo aprite fate un bel iscriviti per seguire tutte quante le news farò uscire un po di video ogni tanto non voglio spammare video a manetta in tutti i canali altrimenti dopo non avete tempo per guardarli quindi seguite passo passo tutte quante le varie uscite attivate le campanelle e siete più che tranquilli a posto detto questo alcune precisazioni da fare la prima il pagamento la donazione perché a fine non è che ci guadagno chissà cosa lo faccio praticamente per voi va fatto al mio conto paypal che trovate sotto in descrizione mi raccomando fare la donazione come amico come amico parente perché perché se lo fate come rivenditore invece di prendere otto euro ne prendo sette perché paypal si mangia una parte delle commissioni come spesa quindi mi raccomando fatelo come amico altra cosa nella versione premium di casperski è prevista una vpn illimitata il problema è che viene prevista solo per l'account principale mentre per tutti quelli invitati la vpn rimane quella base che se non vado errato sono due 300 mega al giorno praticamente inutile quindi se volete comprare questa cosa per avere anche la vpn illimitata sappiate che non è inclusa è possibile potenzialmente farlo ma dovrei accedere tramite teamviewer o qualsiasi altro programma a tutti i computer di tutti quelli che lo fanno quindi solo per quello avrei bisogno di 30 ore di lavoro in più per collegarmi installarvele tutto diventa un lavoro abnorme e allora in quel caso la è fattibile però mi capite inizia a diventare un lavoro a tempo pieno e non riesco quindi se avete bisogno di una vpn o acquistate voi stessi a vostre spese il piano premium e quindi ve lo comprate oppure acquistando il premium da me risparmiate abbastanza soldi per potervi permettere una nuova vpn a parte e devo dire anche magari più seria ad esempio come nordvpn sotto in descrizione dei miei video e sotto su questo trovate anche il link con il codice sconto quindi se vi prendete ad esempio il pacchetto da due anni risparmiato un sacco avete anche mesi extra e vi portate a casa una delle vpn più veloci e sicure che esistano ho comunque anche il codice sconto per cyber ghost per chi avesse bisogno sempre sotto in descrizione anche lì avete l'ottanta tre per cento di sconto e tipo quattro mesi extra fate voi i vostri conti potete comunque acquistare il pacchetto dei due anni e avete circa un mese o dai 30 ai 45 giorni in base a dove lo acquistate per fare il recesso e riavere indietro tutti quanti i soldi quindi state tranquilli potete anche provarlo ed essere completamente rimborsati ok precisazioni fatte ultima cosa che mi sento di dare come consiglio il mio adorato sponsor casefun.com in questo periodo sta facendo degli sconti come sempre davvero fantastici quindi se volete approfittare dell'offerta natalizia mi raccomando andate sotto sempre in descrizione trovate con il mio codice sconto a s 62 per tutti i pacchetti per tutte le licenze office e a s 50 per tutti quanti i pacchetti windows se volete prendervi windows 10 professional con tipo 8 dollari potete farlo sono prezzi davvero ridicoli e ricordo che ci sono comunque altre promozioni come i bundle windows office insieme per avere uno sconto maggiore altri programmi comunque utilizzate sempre il mio codice sconto mi raccomando così avete l'offerta migliore e che dire se avete bisogno di qualsiasi altra cosa scrivetemi sotto nei commenti ditemi se vi servono altre licenze se volete che faccia programmi particolari da fare revisioni da fare tutorial insomma ma resto sempre a disposizione detto questo mi raccomando like iscrizione ai miei due canali fate i bravi e ci vediamo alla prossima puntata vi voglio bene bye bye